Si svolta l'inaugurazione del murales realizzato nell'arco del 2011 sulla facciata principale dell'edificio. Il murales rientra nel progetto voluto dalla direzione ULS e dal centro polivalente arcobaleno del Dipartimento di Salute Mentale grazie anche al contributo fondamentale dell'Associazione dei Familiari Aizam Onlus. All'inaugurazione era presente anche l'assessore al sociale Alessia Bevilacqua che ha detto ho partecipato con piacere e interesse a questo momento di festa per l'inaugurazione che abbellisce di significati positivi e arricchisce il centro arcobaleno anche della nostra città.